cordino elastico nero venduto al metraggio metro lineare da tre millimetri rivestito di filo nero è un elastico che viene in genere utilizzato nel campo dell'abbigliamento per le culisse e i vari tiranti che stanno all'interno dei cappucci o dei girovita però può essere utilizzato per gli impieghi più disparati in qualunque ambito voi lo vogliate utilizzare cordino molto resistente anche al taglio infatti ha una buonissima tenuta bisogna fare molto forza per tagliare colore nero